buongiorno a tutti la vostra homeless video veloce cosa mangio oggi abbiamo prosciutto crudo lo metto qua diamo il salame salame ungherese e poi io mi prendo una bella baguette e poi non so se è una baguette ma comunque è bello lungo la baguette me la dici che è un metro ma forse diciamo anche meno comunque io sto pezzo di pane me lo mangio e poi le patatine quelle a me non mancheranno mai nulla oggi mangio così e niente buona giornata a tutti un bacio a solo a me stesso